Il cimitero della città di Sciacca sarà riaperto da lunedì prossimo. Lo ha annunciato il sindaco Francesca Valenti in un video messaggio pubblicato ieri sera su Facebook nel quale il sindaco ha fatto il punto sulla situazione dell'epidemia da Covid-19 in città con i due nuovi casi di contagio in due giorni che non devono far abbassare la guardia. Al tempo stesso il sindaco Valenti si è soffermata sull'esigenza di riappropriarci dopo questo forzato, seppure necessario isolamento, delle nostre abitudini. C'è una situazione drammatica legata alla crisi economica che stiamo attenzionando senza proclami ma pensando a cosa è fattibile con l'aiuto di tutti, ha detto Francesca Valenti che poi si è soffermata su quella che ritiene sia anche un'altra necessità quella che ha definito la cura dell'anima e l'attenzione verso categorie fragili come gli anziani diversamente abili, i bambini e i giovani che hanno vissuto settimane pesanti di isolamento. Sindaco che ha espresso più di qualche perplessità sull'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che impone ancora molte limitazioni e che ha annunciato alcune iniziative per rispondere ai bisogni intimi delle persone. Dobbiamo costruire il modo, ha detto, per tornare a vivere in sicurezza seppure in modo graduale e con prudenza. Ed è per questo che io sto portando avanti, che l'amministrazione sta portando avanti l'idea di utilizzare gli spazi pubblici per attività, attività sportive, attività ricreative, attività culturali. Non saranno eventi, non ci potranno essere assembramenti, dovremo tenere il giusto distanziamento sociale, dovremo avere tutti i dispositivi di protezione, necessari, ma dobbiamo comunque programmare questo tipo di attività e su questo si sta lavorando. Così come sinceramente io non capisco neppure di questo, non ho fatto mistero neanche negli scorsi giorni, il perché non si possa andare nelle seconde case. Non capisco perché un nucleo familiare non possa spostarsi dall'appartamento in città alla casa, al mare o alla casa in campagna. Mi sembra una sorta di prigionia forzata, alla fine è sostanto un modo per poter vivere in un ambiente che ci consenta di stare più all'aria aperta, per altri ancora più isolati in un aspetto di un appartamento in un condominio e che dia un adeguato spazio all'aria aperta ai bambini per giocare, agli anziani per prendere un po' d'aria. Quindi su questo io comunque sto lavorando perché, ripeto, ci sono alcune indicazioni ministeriali, alcune FAQ che sostengono che non sia possibile questo tipo di trasferimento, ma siccome io non sono assolutamente d'accordo, ritengo che bisogna lavorare per poter consentire il trasferimento della dimora. Così come ho saputo, sappiamo, pare, che dall'11 maggio riprenderanno le celebrazioni religiose all'aperto, anche lì con il giusto distanziamento sociale, con tutte le misure di sicurezza e tutte le garanzie sanitarie. Io sono tra coloro che ritengono che per pregare non necessariamente bisogna essere in una chiesa e che il valore della fede si deve dimostrare fuori dall'edificio di gusto, ma credo che anche questo possa servire a curare l'anima. Così come il cimitero, l'apertura del cimitero. Intendo riaprire il cimitero dal 4 maggio perché non capisco assolutamente il motivo per cui un genitore non possa portare un fiore alla tomba del proprio figlio letto morto o un figlio non possa andare a trovare il genitore defunto. Tutto questo per me è incomprensibile. Non capisco perché mai debba considerarsi necessità l'acquisto delle sigarette o addirittura del grattevinici e non sia una necessità andare a trovare un defunto. Non tutti colgono il senso di questo. Io rispetto chi la pensa diversamente e chi forse non comprende quale possa essere il senso di tutto ciò, però credo che impedirlo oggi non abbia più un senso. Ovviamente anche su questo si disciplinerà l'entrata al cimitero in maniera tale che ci sia distanziamento, che ci siano delle visite individuali e che comunque ciascuno sia dotato dei dispositivi di protezione individuale, però vanno riaperti e va riaperto il nostro finireo.